A ripensarci mi rendo conto quanto siano i piccoli e insignificanti casi a determinare lo svolgersi degli eventi. Molto di ciò che penso è come una poesia, un tenero regalo che però tu non senti, perché vi sono parole che non tollerano la luce del giorno, che mai si potrebbero pronunciare senza che qualcosa si spezzi, quindi dirtelo non posso, devi chinarti su di me, così in silenzio ti porrò ogni mia domanda, vi sono cose che mai si potrebbero dire senza che qualcosa si spezzi, le ultime non tollerano nemmeno un sussurro, devi chinarti su di me, chiudere gli occhi e allora in silenzio lo dirò al tuo amato te. Grazie a tutti. Grazie a tutti.